Un programma di eventi ricco e di qualità, quello che animerà l'estate di Castellabate in ogni frazione del comune e che vedrà il susseguirsi di serate con prestigiosi personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema e della cultura. Si parte con il Festival Internazionale degli Artisti di Strada, che vivacizzerà il Corso Matarazzo di Santa Maria nelle serate del 30 giugno e del 1 luglio. Imperdibile l'anteprima del Geffoni Film Festival, una straordinaria esperienza per i bambini e i ragazzi, in calendario il 10 luglio. Appuntamento venerdì 14 luglio tra shopping e spettacolo con la Notte Blu per celebrare la conquista della diciannovesima bandiera blu, preceduta il 9 luglio dalla cerimonia Licosa in blu prevista sul molo di Punta Licosa, realtà consolidata. L'appuntamento con il premio Pio Alferano, presentato dal giornalista Nicola Porro che nel Castello dell'Abbate il prossimo 22 luglio vedrà la presenza di numerosi volti del cinema, della politica e della cultura, premiati con il prestigioso riconoscimento assegnato dalla Fondazione Pio Alferano. Ecco solo alcuni nomi, Paolo Crepeggian, Franco Vissani, Simona Izzo, Ricchi Tognazzi, Dario Nardella, Pupi Avati. Ad accompagnare il premio tornano le mostre allestite nelle sale medievali, curate dal noto critico d'arte Vittorio Sgarbi, con importanti artisti che arricchiranno con le loro opere le stanze del Castello dell'Abbate, uno fra tutti Piero Guccione, definito il più grande artista vivente, e ancora eventi, momenti di musica e allegria con Soleado Band, previsto in piazza comunale a San Marco di Castellabate il 28 luglio. Ritorna, visto il grande successo riscontrato nella scorsa edizione, la rassegna Metti una sera con, salotto di intrattenimento con personaggio dello spettacolo, che quest'anno vedrà nella piazzetta Caduti del Mare di Santa Maria l'affascinante Riccardo Scamarcio, l'ironica Veronica Pivetti e il noto giornalista Antonio Caprarica, rispettivamente nelle serate del 17 luglio, 27 luglio e 20 agosto. Grande evento sulla spiaggia marina piccola di Santa Maria con Alexia Tour 2017, concerto della nota artista che coinvolgerà il pubblico con la sua personalità travolgente. A ferragosto, invece, come da tradizione, il cielo di Castellabate si illuminerà con l'attesissimo spettacolo pirotecnico sul mare, appuntamento al Castello dell'Abbate dal 25 al 29 agosto, invece, per la consolidata kermesse di musica e teatro. Castellabate è il luogo dell'incanto, che ospiterà una grande serata finale, con lo spettacolo Michelle e Placido in serata d'onore. L'estate non finisce qui, anche a settembre molti gli appuntamenti prestigiosi, come il premio Leucosi ai due serate e al ritmo di jazz, inoltre ad arricchire l'offerta di intrattenimento per tutta l'estate, i mercatini artigianali estivi, la rassegna culturale e libri meridionali e tante serate organizzate dalle associazioni turistico-culturali e ricreative del territorio, con il patrocinio del comune di Castellabate. Anche questa estate Castellabate presenta un calendario di qualità sia artistica che di intrattenimento culturale, eventi per tutti i gusti che regaleranno grandi emozioni, passando dal teatro ai salotti culturali, dalle ospitate ai concerti e alle gare sportive, dichiara l'assessore al turismo e alla cultura Luisa Maiuri. In sinergia con le numerose e attive associazioni che si impegnano ad arricchire il calendario di eventi offerto dal comune ed organizzato con il supporto dell'ufficio di promozione turistica e culturale, possiamo essere tutti orgogliosi di aver costruito insieme un'estate di qualità, che consoliderà l'immagine di Castellabate come luogo dell'incanto.